Detto questo, direi che dobbiamo dare un'occhiata un pochino a cosa sta succedendo Poco fa, oggi pomeriggio, c'è stata una presentazione di Unreal Engine, come potete vedere Di questo aldone qua, Team Sweeney, founder and CEO di Epic Games Come vedete, questo ragazzi è colui che ci dovrebbe... dobbiamo ringraziare tutti quanti Perché ci permette di giocare a Fortnite, io lo ringrazio giorno dopo giorno, gli voglio un gran bene Guarda, ti bacerei adesso davanti a tutti, senza problemi Buonasera, intanto ovviamente un saluto, un saluto, gli mandiamo un bacione a tutti quanti Mi sembra un po' eccessivo così, immaginati ruotare qua in mezzo Madonna Qua dentro Chapter 4 Ma che cazzo stai dicendo? Ma cos'è sta roba? Ma sembra un... cioè, sembra la vita reale Ma sembra una ripresa vera, raga Ah, madonna Desideri questo porco? Fammi vedere un attimo, non mi rompe i coglioni Porca troia, quanto ha fatto bene Questo in teore è un gioco, tra virgolette Ma che cazzo... no, vabbè Ma... Ma stiamo scherzando, sì, ma reale è assurdo Ma sembra un cazzo di film Cioè, non sembra lontanamente un gioco Cioè, ma io invece immagino in moving col truck, così È tutto in tempo reale? Eh, lo sto vedendo che è in tempo reale Bellissimo Questa è la presa... vabbè, è un Zain 5, insomma È pazzesco Andiamo un pochino avanti, dai Ma questo non è Fortnite È un po' indietro Ma infatti, io ve l'avevo dentro, raga Dove cazzo mi avete fatto andare? Non è qua Vedi questo, tu c'è un pegghello Ma? Ma che cazzo stai dicendo? Ma? Ma cosa cazzo stai dicendo? No, non è vero Sì, vabbè come cazzo l'hanno fatto a fare una roba del genere qua presentano le future diciamo del tool per preparare badonna è un'idea della madonna sincero escono delle mappe assurde si possono uscire delle mappe veramente assurde vabbè vabbè dopo le vediamo non mi voglio spoilerare troppa roba ci sembra di essere su call of duty raga che cazzo sto vedendo è assurdo se io vi prego spero che il mio pc riesca a girare sta roba è una roba allucinante da vedere bella paolo da gino grazie di due anni bella cecca ah vecchio sta disegnando di tutto guarda qua e guarda che cazzo è sta roba fai conto che l'ora ha la 40-90 e non so speriamo che il mio riesca a tenere vecchio io non ho la 30-80 io da loro gira da dio da dio porca puttana ma questo boss che cazzo è è assurdo da vedere la mia play credo che esploda ma infatti scusa te ma è anche per play queste mappe cioè sono anche per play sembrano tipo degli eventi immaginatevi gli eventi di fine stagione con sta roba cioè gli eventi di fine season raga ma di cosa stiamo parlando puttana Eva ok ora è veramente impressionante basta guidare bastardo di merda si no è veramente impressionante quindi questo ciuccio e pechello puttana fatemi prendere la sciadola la sciavola qua che non sia mai andiamo avanti vediamo un po' esploriamo la zona oh ma se uno cade qua partono le bestemmie comunque in sostanza penso che siano delle mappe da esplorare per capire un pochino se no è una roba cioè non sembra neanche fortnite è quello il discorso adesso voi state vedendo è fortnite perché io sto con la skin della calciatrice bla 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 ma cioè vi sembra fortnite questo a me no cioè questo sembra tutt'altro che fortnite adesso inizio a capire un pochino di più il perché dell'arrampicata il perché di tutti i sistemi che cazzo è sta porcata oddio ok qua ci sono due moicani ok andiamo avanti vediamo un po' come è la situazione è che è proprio un'ambientazione cioè che è proprio è da film guarda che sti coglioni guarda gli fps vediamoli 60 li tiene eh raga sono ok allora raga c'è da dire voi dite guarda gli fps guarda i miei settings non guarda gli fps sto tutto a ultra raga sto tutto a epico tutto dalla prima all'ultima cosa cioè se riesco a toccare i 60 vuol dire che dio mi ha benedetto cioè non è normale fare 60 fps fidatevi cioè vuol dire che già è ottimizzato da dio quindi questo cioè non è non è per difendere me ne frego un cazzo però dico cioè cazzo è che non va una sega se vabbè ma in che senso scusami ma che cazzo stai dicendo ma se vabbè io come cazzo li tiro giù sti cani fuori dai coglioni aspetta un attimo a me far fuori sti portelli ma ci lascio le penne raga ci lascio le penne dai andato la vogliamo trollare qua sto su una mappa piccolissima e da solo vecchio ma sto tutta ultra sai cosa vuol dire è tutta ultra ultra non è che dici medium ultra tutto sì ma sono andato questo porto è andata è andata no ti prego vecchio oh no 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 vecchio aspetta stana galera devo trajardare raga aspetta che non voglio morire non voglio trollarla c'è 10 di vita stana eva contro il porco oh la vai giù a pecora aaaaa non dirmi che devo rispondere dall'inizio no ok eh vabbè dai credevo di essermela rovinata totalmente vediamo un attimo com'è la situa qua c'è un uovo gigante lì ma che cazzo è l'uovo a panettone ma scusate un attimo ma io sta roba la posso fare anche con un mio amico se posso chiamare roscovice e fare sta roba insieme qua la monetina che mi dà l'accesso cazzo ma io scrivo a nezza allora raga scusate un attimo bella patte grazie dell'anno salvo grazie dei 3 ciao chiro grazie dei 19 andrei grazie degli 8 20 ornato cazzo è rispondi alla call guarda oh bello nez dove stavi te cosa cazzo vuol dire e in che mappa stavi di quelle dominio cos'è deserto l'ultima io stavo provando la seconda qual è la seconda quella dello spazio l'hai già fatta te ah si io l'ho già fatta tutte tutte dalla prima all'ultima le hai finite si 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 tutte tutte ok ma si può giocare anche con la gente no solo in desert e reclamation però reclamation si bugga ok arrivi a un certo punto dove ti va sotto la mappa e continui a lendare senza fare nulla ok allora ascolta finisco sti vedere qui al volo e poi se ti va proviamo va bene io sono qua in dominio ok allora finisco e mi smuto va bene bella raffo grazie della trentella siamo grazie dei 3 mesi ma che cazzo è sta porcata in che senso un able to edit building ma che cazzo sto vedendo è open door aprimela un dildo gigante e prendiamo su sto ferro e cosa mi hai pensato per coglione ma è forte di prima persona tra l'altro ma che cazzo è some light reading perhaps read the book vecchio non dirmi che è un horror perché bestemmia oh vecchio ma in che senso scusa cosa vuol dire sta porcata ma stai scherzando ok prendi i coglioni riprendi la mia torcetta ma ok anche qua cioè nel senso ma cosa cazzo stiamo vedendo cioè ma cosa vuol dire cioè che mi sembra di essere non so su un altro gioco cioè allora se tu pensi cioè non so come dire devi viverti il momento perché è una roba che non so è strana da vedere che cazzo è sta roba dove cazzo è l'ingresso qua è manutenzione ah ok così è un film sino è un film infatti the pipe is missing che cazzo vuol dire the pipe is missing manca un pezzo di tubo ah è qua oddio per la madonna del signore dovrei aver preso un pezzo di tubo ok beh ho voluto fare un paio di robe per vedere un po' quello che rende di più è la desert è sincero la vediamo la vediamo però ognuno ha il suo perché secondo me che cazzo è successo scusa c'è altra roba reset door ok si dovrebbe aprire la baracca in teoria dai ce l'abbiamo qua ok esotica quella desert cazzo se venite così raga mi casate però se ave ovvio queste sono mappette fatte così al volo per vedere la modalità secondo me si ma che cazzo devo fare allora basta abitare bastardo di merda cazzo è un parkour no è impossibile quindi questo no dai non dirmi che è veramente un parkour no sei serio ah no ok devo ritornare nel tunnel un attimo e poi per andare dove ok si ma qua vecchio cioè qua ci saltiamo in aria cioè non c'è un cazzo di nulla ok e che cazzo è sta porcata ah questa mi sa che è finita così boh questa qua niente di assurdo la prima per ora mi gasava di più bello quando erava nella miniera guarda il tuo riflesso io non lo vedo neanche dov'è non c'è mica il riflesso è la madonna cazzo sono dio ma chi sono sono gesù cristo ma cos'è sta roba c'è che devo andare là dentro e mi sa che sono gesù cristo raga ok una porcata che cazzo è mi sto illuminando anche la madonna non vedo niente sono in paradiso comunque sembra dei mini eventi tipo così è il bordello della victory royale mo' sbuca un cazzo gigante e si può bannare è tour to lobby punti a controllo si è dominio dai è dominio è dominio ma la mappa c'entra qualcosa con quelle di call of duty no sembra più battle oddio ma che cazzo sto vedendo ma sono le classi addirittura ah si e dimmi quelle classi a modo è o la prima o shotgun ok probabilmente la prima forse vediamo ma chi è sto stronzo merda è uno snappo andiamo a vedere oh sto cane di merda ma mi ha trombato ma stai scherzando basta mi dare bastardo di merda ma che cazzo di arma sapeva aiuta aiutami bro arrivo ah ma ero io ma siamo contro ah 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 tanta roba sto porco ma perché vedo tipo cioè la grafica è grigia è una mappa è proprio così una merda cioè non si capisce un cazzo però dovresti usarla senza la modalità prestazioni il problema è che ti va tipo 40 ah no ma io lo sto usando senza modalità prestazioni ma è una merda ma io ci vai bene ma a me sembra veramente grigio cioè non so se così è il deserto sì sì è il deserto anche la rima è tutto grigio ma donna ma questo che lanza le bombe capito mi lancia a full bombe perché non mi ti prendi una banca ma perché mia bastardo vai giù a pecor ma donna sto bug anche qua oh quell'arma tutta bugata che bug eh quello dell'arma tutta bugata merda sto morendo aiuto è mai so morto qua non c'è una mano da qualcuno ah 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 come questo bastardo è andato da 8 persone puttana ho 10 granate oh un piccolo bombolone anche da me raga è full grigio è normale ma letta un'altra credevo fosse un bug invece è proprio così ma l'idea è figa comunque cioè ci sta eh sì ma bisogna vedere che cosa si intende eh esatto se si distruggi per di minchia è vero ma ti immagini eh cerca di distruggere è una hit ma la mettono instant te lo dico sicuro però andava la classe migliore è il trooper secondo me che c'è l'arma col mirino guarda sono spawnato di fianco a uno va sotto bug stana ma quella del deserto è proprio si è un domini raga cioè è Call of Duty Call of Duty proprio letteralmente no no e la madonna sono sudati questi con performance e tutto si vede comunque decent boh è da provare aiuto quanto è forno si vede bene adesso la provo dopo di questa ma in tutto questo chi cazzo sta vincendo i rossi ma penso io non so mi sa che sono i rossi tu sei nei rossi mi sa ma perché passo attraverso la gente si no comunque è un po' lag eh ho finito i colpi ho finito tutto anch'io una merda questa classe aspetta fammi provare questa che ho le bombe le mini claymore mettiamo giù due bombe no ma come ha fatto ero in pit 0 di pina 28 era la nuve come 28 porca troia primo round è nostro sto porco fammi andare via è andata per la spot un po' lag a a Grazie a tutti.